Non tutte le persone partono per lo stesso motivo e non tutti fanno lo stesso viaggio, ma ovunque si vada e per qualunque motivo sentiamo il desiderio di integrarci. Da qualche ricordo ho sempre desiderato viaggiare, abitare luoghi e paesaggi diversi, sempre in Europa e sempre in Unione Europea, un'unica moneta e nessuna frontiera. Cambiare paese significa sempre cambiare sistema amministrativo, perché ovunque in Europa è necessario iscriversi al registro nazionale. Ovunque si vada è importante conoscere la forma di governo, le leggi sul lavoro e come funziona la sanità. Tutte queste cose regolano i diritti e i doveri di una cittadinanza attiva. Oggi in Lussemburgo ricomincio da capo, ma per fortuna non sono sola. Come scuola, lavoro, sanità e i diritti civili.